Eric il Rosso, il vichingo che scoprì l'America Eric il Rosso è un personaggio leggendario della storia norrena. Noto per aver fondato la prima colonia vichinga in Groenlandia e per essere stato il primo europeo a sbarcare in America, Eric nacque in Islanda intorno all'anno 950, figlio di Torvalda Svaldson, un nobile norvegese esiliato dall'Islanda per omicidio. Eric crebbe in un ambiente violento e turbolento, e fu presto coinvolto in una serie di liti e scontri. Nel 982, Eric fu condannato all'esilio per aver ucciso tre uomini in una rissa. Si imbarcò quindi su una nave con la sua famiglia e alcuni amici, e salpò alla ricerca di un nuovo luogo dove stabilirsi. Dopo un lungo viaggio, Eric raggiunse una terra sconosciuta, che battezzò Groenlandia, ovvero Terra Verde. Il nome era ingannevole, perché la Groenlandia è in realtà una terra molto fredda e inospitale, ma Eric sperava che il nome attraesse altri coloni. Eric e i suoi compagni iniziarono a colonizzare la Groenlandia, e presto la loro comunità iniziò a prosperare. Eric divenne un capo carismatico e un liderabile, e fu presto riconosciuto come il capo supremo della Groenlandia. Nel 1000, il figlio di Eric, Leif Erikson, salpò dalla Groenlandia alla ricerca di nuove terre. Dopo un lungo viaggio, Leif raggiunse un'isola che chiamò Vinland, ovvero Terra del Vino. Leif e i suoi compagni sbarcarono a Vinland e rimasero sull'isola per l'inverno. Durante la loro permanenza, scoprirono che l'isola era ricca di vigneti e di altre risorse naturali. Leif Erikson non fu l'unico vichingo a visitare Vinland. Nel corso del XII secolo, altri vichinghi si stabilirono sull'isola, e vi rimasero per circa 50 anni. La presenza dei vichinghi in Vinland fu però breve e temporanea. I coloni vichinghi furono costretti a lasciare l'isola a causa delle difficoltà climatiche e dei conflitti con i popoli indigeni. La scoperta dell'America da parte dei vichinghi è stata a lungo ritenuta una leggenda. Tuttavia, nel 1961, la scoperta di un sito archeologico vichingo a Lanseo Medos, in Canada, ha confermato la veridicità delle saghe norrene. La scoperta dell'America da parte dei vichinghi è un evento importante nella storia del mondo. È la prova che i vichinghi erano dei navigatori abili e intraprendenti, e che erano in grado di raggiungere terre lontane e sconosciute. Le fonti storiche Le fonti storiche che raccontano la storia di Erich il Rosso e della sua scoperta dell'America sono le saghe norrene. Le saghe sono opere letterarie scritte in prosa, che raccontano le gesta di eroi e guerrieri norreni. Le saghe più importanti che raccontano la storia di Erich il Rosso sono, la saga di Erich il Rosso, che racconta la vita e le imprese di Erich e dei suoi figli. La saga dei Groenlandesi, che racconta la storia della colonizzazione della Groenlandia da parte dei vichinghi. Le saghe norrene sono state scritte secoli dopo gli eventi che raccontano, e sono quindi soggette a errori e imprecisioni. Tuttavia, sono le uniche fonti che abbiamo a disposizione per conoscere la storia di Erich il Rosso e della sua scoperta dell'America. Le conseguenze della scoperta La scoperta dell'America da parte dei vichinghi ebbe un impatto significativo sulla storia del mondo. In primo luogo, la scoperta di nuove terre permise ai vichinghi di espandere il loro territorio e di aumentare il loro potere. In secondo luogo, la scoperta dell'America influenzò la cultura e la società norrena. I vichinghi entrarono in contatto con nuove culture e nuovi modi di vivere. Che influenzarono le loro tradizioni e le loro credenze. Infine, la scoperta dell'America ebbe un impatto anche sulla storia del mondo moderno. La scoperta di nuove terre da parte dei vichinghi aprì la strada alla colonizzazione europea del continente americano, che avvenne pochi secoli dopo. Grazie. 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 Grazie.